Che argomento complicato quello di oggi, però ci avete chiesto in tantissimi di parlarne. Abbiamo aspettato un po' a parlarvi di questo argomento perché ci siamo resi conto che c'è il seguente problema. Il rapporto con i genitori è una delle cose che cambia di più nel corso della crescita ed avendo tutti delle età diverse, qui in ufficio da 20, rileviamo tutti delle cose diverse nei nostri genitori. E questa è un po' la difficoltà che incontriamo tutte le volte che dobbiamo scrivere un video di 20. Non vogliamo lasciare indietro i più piccoli ma nemmeno diventare noiosi per le persone più grandi. Però alla fine siamo giunti a una conclusione. Il rapporto con i genitori cambia in ogni fase della vita, però c'è una costante che incontriamo tutti. Quella in cui si passa dall'avere un rapporto acritico con i genitori a quella in cui invece si comincia ad avere un'idea più nitida di chi sono. Insomma, come tutte le cose che ci sono vicine, i genitori non riusciamo a vederli chiaramente come individui finché ricoprono un ruolo assoluto di mamma e papà. Finché i genitori rimangono solo i nostri genitori, nel bene e nel male, hanno sempre ragione. Ci fidiamo sempre di quello che ci dicono e ci sembra che il loro compito sia quello di rendere meno complicato il mondo che ci circonda. Mentre quando diventiamo adulti purtroppo non siamo più protetti da quel guscio lì, finché siamo piccoli il loro compito è quello di farsi carico di una serie di preoccupazioni, di ansie e di responsabilità del mondo reale, lasciandoci spazio di manovra per diventare degli individui fatti e finiti mentre deleghiamo a loro una porzione del nostro pensiero critico e delle nostre scelte. Ovviamente questo processo può essere più o meno fluido a seconda di chi sono i nostri genitori, di qual è il rapporto che abbiamo con loro, però almeno teoricamente per una buona parte della vita subappaltiamo a loro parte della fatica del mondo. Ora, la fase in cui i nostri genitori smettono di essere tali nelle nostre teste è sempre diversa e immagino possa verificarsi a qualunque età. Per esempio i genitori di rene si sono separati quando lei era adolescente, per cui lei ha visto molto presto i loro difetti umani e si è abituata prima. E diciamo che in generale i divorzi, le separazioni, tutto quello che fa vacillare la coppia genitoriale, contribuisce ancora più marcatamente a far sì che i genitori, da animale mitologico formato sì da due entità diverse, però unite nel loro affetto, nel loro metodo educativo e nella loro autorevolezza, diventino due entità singole piene di difetti. Il momento in cui viene preso e visto singolarmente l'animale genitore per quello che è, ovvero un essere umano. Ed è molto difficile fare i conti con il processo di smantellamento genitoriale da figlio, perché soprattutto se il rapporto è sempre stato molto armonico, di punto in bianco ti ritrovi a dubitare di tutto ciò che i genitori fanno, pensano e dicono. E inizialmente può capitare quando la tua visione del mondo e di te stesso è così marcatamente diversa dalla loro, che li odi, o meglio ti sembrano degli ottusi nel loro non accorgersi o nel loro non vedere delle cose che per te invece sono così chiare. Il più delle volte capita per esempio che abbiano già scelto loro per te una strada da percorrere. E probabilmente tu hai anche incominciato a percorrerla per i motivi di cui sopra, finché a un certo punto ti sei ritrovato a chiederti ma la visione che hanno loro di me coincide effettivamente con chi sono? Per esempio il padre di Rene l'avrebbe voluta in ambito accademico e prima che Rene decidesse di non percorrere la strada che le era stata gentilmente indicata ma di crearsene una nuova molto più aderente a quello che lei è, sono passati 25 anni. E forse c'è stato bisogno di infrangere delle aspettative genitoriali per creare qualcosa che fosse solamente suo. E il fatto è che i genitori sono pieni di limiti come lo siamo noi ma fatichiamo ad accorgersene finché siamo così vicini a loro. Non che non ci vogliano bene, ma anche l'affetto è un qualcosa che viene espresso in tantissimi modi diversi. E qualche volta questa espressione affettuosa è vincolata da costruzioni, da rigidità, da paure, da limiti. Oppure l'affetto può essere dato apparentemente solo da determinate scelte del figlio andare bene a scuola, obbedire alle regole, eccetera eccetera. In più le famiglie, come tutti i gruppi tra cui si intrecciano relazioni intime e vicinanza fisica, hanno anche una propria narrazione che le sostiene e le tiene unite. Per narrazione si intende tutta quella costellazione di leggende, miti, battute, obiettivi familiari a lungo termine, utopici, ricordi condivisi e la direzione narrativa che si decide di dare a tutti questi elementi. E per quanto questa narrazione possa essere bella e positiva, ovviamente esistono anche casi in cui invece è rigida, negativa ed esplicitamente dolorosa, è pur sempre una narrazione e quindi corre il rischio di distaccarsi dalla verità emotiva dei comportamenti familiari, che quindi con il tempo possono rifiutarla completamente. Se per i genitori immaginiamo che uno dei momenti topici sia quello di invietreggiare rispetto al loro ruolo genitoriale per permettere al figlio di diventare adulto, uno dei nostri momenti fondamentali è quello in cui ci fermiamo un attimo e riusciamo a vedere con una certa distanza chi ci ha cresciuto, senza venerarli né odiarli troppo e ascoltandoli consapevoli che però siamo noi i migliori conoscitori di noi stessi, amandoli e accettandoli esattamente per quello che sono, ovvero esseri umani che il più delle volte, esattamente come noi, non ci hanno capito un cazzo. Grazie. 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 Grazie.